RAI EDUCATIONAL RAI EDUCATIONAL è ancora di più. Un laboratorio di idee al servizio di tutte le reti RAI. Una sperimentazione continua. Una factory di programmi a basso costo e con un solo obiettivo. La qualità del prodotto. Tra gli altri programmi prodotti da RAI EDUCATIONAL Cultbook, la trasmissione dedicata ai libri di culto di ieri e di oggi. EduStrada, norme del codice e sicurezza stradale dalla TV della Guida Sicura. PIANETA ENERGIA, per scongiurare il rischio blackout e riflettere sui problemi dell'energia. CENTRAL EXPRESS, il treno immaginario in viaggio nella nuova Europa. GAP, generazioni alla prova. Un talk show che mette a confronto generazioni diverse. SCRITTORI PER UN ANNO, ritratti dei più significativi poeti e narratori della nostra letteratura contemporanea. DIARIO DI FAMIGLIA Un talk show che è un prontuario di manutenzione familiare. Sì. Rewind, la TV a grande richiesta. Sul satellite, il weekend, il palinsesto dei telespettatori. Tutto questo è molto altro ancora. Viene trasmesso sulle tre reti generaliste della RAI, sui due canali satellitari. RAIEDU1, dedicato al mondo della scuola. RAIEDU2, il servizio pubblico sul satellite e sul digitale terrestre. E poi, le infinite possibilità del web. www.lastoriasiamonoi.rai.it Questo sito ha vinto il primo premio del BardiWeb Award 2006 nella categoria No Business Sites. E anche molti documentari della storia Siamo Noi sono stati premiati. AISEL, la finale maledetta. TAGLIANI, gli italiani in Libia dal 1911 al 1970. La lista di Pasquale Rotondi. Tutto Totti. Quella parte di Anima chiamata Corpo, il calvario di Karol Wojtyla. Martiri assassini. Lo schermo nella polvere, i mondiali visti dal Mozambico. Giuseppe Garibaldi, il diavolo rosso. Donne di mafia, l'urlo e il silenzio. Giancarlo Siani. La storia Siamo Noi è insomma un brand internazionale. Presente nelle maggiori vetrine mondiali. Coproduttore con i più importanti partner. Un marchio che riesce ad abbinare strategie e accordi internazionali con una factory di contenuti e di qualità a basso costo. Rai Educational. Un mondo di idee e di qualità. Per una televisione da conservare. La storia Siamo Noi è insomma un brand internazionale.